O Martino è venuto, dice por la fede, del Signore al Signore, il mondo del Pantese, o noi sono divini, la rosa è la vita, del regno dei peati, del regno dell'amore, il mondo del Pantese, o noi sono divini, la rosa è la vita, del regno di la fede, del regno della fede, del regno dell'amore, il mondo del regno dei peati, del regno dell'amore, del regno dell'amore,, del alla quem ci sono divini. Ci troviamo a Bergamo alla cattedrale di Sant'Alessandro Martire, oggi festa patronale di Sant'Alessandro vi farò ascoltare le suonate principali di questo campanile con tutte le campane. Sant'Alessandro 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti